Eusebio, secondo lei è fattibile questo? Lo vede possibile oppure? Non tanto, diremmo. Era una domanda retorica, purtroppo. Magari, ce lo auguriamo, cosa posso dirle? Ripeto, quando subentrano interessi, le società stesse che dovrebbero monitorare questi controlli, secondo me chiudono gli occhi, anche perché altrimenti non avrebbero più atleti. Il problema è proprio questo. Allora, vediamo ancora e sentiamo delle testimonianze e poi torniamo in studio.